Allora, mister Mariotti, aveva detto che era una partita complicata, complicata è stata, però vittoria è importante. La vittoria è importantissima. Partiamo dalla cosa bella, la vittoria. E la capacità di rimontare per tre volte, di ritornare avanti per tre volte. Un vantaggio, certamente. Questo va dato il mezzo bicchiere pieno. Però io da allenatore, dopo devo vedere che forse come gestione di partita abbiamo fatto un piccolo passo indietro. Perché eravamo in vantaggio, penso che l'avevamo preparata bene, sapevamo che avrebbero giocato con 3-5-2, diciamo. Avrebbe oscurato la giocata a liberta. E quando siamo andati in vantaggio, la prima mezz'ora abbiamo sempre gestito bene. Poi chiaramente, forse, non so, qualche piccolo calo di tensione, oppure pensavamo che la partita era un pochettino più facile. Loro invece ci hanno messo in grossa difficoltà perché hanno sbagliato un calcio di rigore, una grossa parata di Colombo. Anche noi abbiamo preso un palo e altri due, tre. Cioè è stata una partita aperta e questo in casa tante volte non deve succedere perché noi abbiamo un obiettivo. Però dopo prendo i tre punti e prendo la grande reazione insieme al pubblico della squadra che voleva vincere a tutti i costi. E dopo il 3-2 invece ho rivisto la squadra che voglio io, cinica, esperta, che sa gestire il tempo. Il tempo in una partita di calcio è fondamentale, va gestito sempre. La squadra l'ha fatto bene dopo. Magari nelle prime due occasioni qualche distrazione di troppo dietro anche sui gol? Certamente se tutto fosse per tutte e due le squadre giusto, quello che uno prepara, che immagina, sarebbe sempre 0-0. Nessuno sbaglierebbe mai. Però chiaramente a fronte di due giocatori esperti che avevano sui esterni, i nostri giorni gli hanno concesso qualcosa. Però nel complesso poi hanno fatto una buona gara, sono stati sempre propositivi e niente. Non c'era qualcosa da concedere, ne ripareremo la martedì. Però insomma oggi siamo in testa, abbiamo ripreso tutto. Anche il San Donato vinceva 3-1, mi hanno detto e poi ha fatto 3-3 in casa. Vuol dire che le partite, specialmente le prime 10-12 partite, sono tutte aperte, tutte squadre in forma. Poi cominciano gli infortuni e squalifiche e sarà il campionato più attendibile. Allora, Colombo, una vittoria difficile contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. Forse il primo che ci ha messo veramente in difficoltà. Ma credo che siano state tutte partite complicate su vari punti di vista. Oggi è stata una partita molto complicata a livello mentale perché non siamo dovuti un attimo recuperare per andare in vantaggio. Però penso che sia stata una grandissima prova di tutto il gruppo, da chi ha giocato all'inizio, da chi è entrato. Di dimostrazione, dire che non siamo solo belli e tutto, ma sappiamo fare anche della guerra che in questo campionato. Poi quando arriverà l'inverno servirà andare in alcuni campi e fare un po' di guerra. Soprattutto in trasferta. Sì, 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 ovvio perché nel nostro campo abbiamo un campo che è spettacolare e quindi ci permette anche di giocare il nostro gioco che è più di pala a terra. Però abbiamo dato una dimostrazione e penso che siamo belli cattivi e che possiamo andare a giocare contro qualsiasi squadra. Anche oggi ho una bella prestazione da parte tua. A primo tempo due gran parate. Poi nella rete del 2-2 la palla è rimbalzata male. Che è successo? Ma è successo che potevo stare anche un po' più veloce mentalmente a leggere il rimbalzo sbagliato. È un episodio che può succedere. Primo tempo sono stati due belli interventi che hanno fatto piacere anche a me, ovviamente, continuare su questa strada. Però penso che si pensi già alla prossima partita. Ormai oggi è andato, ci portiamo a casa i tre punti e siamo tutti felici. E siamo anche primi in classifica. Sì, siamo primi in classifica, però è lungo il campionato. Comunque, che bella comincia. Sì, speriamo, speriamo. Dai, stiamo facendo bene, stiamo lavorando bene. È un bellissimo gruppo, ci divertiamo, lavoriamo col sorriso, ci andiamo col sorriso. Quindi ci sono tutte le componenti per fare bene. Andrea Mancino, un'altra prestazione da incorniciare. È una vittoria importante. Sì, oggi era importante fare il risultato. Anche se loro sono venuti a giocare qui a viso aperto, ma noi siamo stati bravi a non mollare mai. e anche se loro ci hanno messo in difficoltà, abbiamo saputo rispondere. Ecco, tu sei arrivato ad Arezzo come trequartista, poi ti sei reinventato nel ruolo di centrocampista ovunque. Come ti trovi in questa metamorfosi? Sì, non è proprio il mio ruolo, però mi trovo bene, lavoro bene in settimana. C'è uno staff di alta qualità, i miei compagni che hanno esperienza, che mi aiutano e va bene così, sono contento.